Qua è da seconda, non da terza. Buongiorno! E sono le 10 adesso, eh? Era che noi alle 9 e 5 lo aspettavamo in età. Io vi ho detto, alle 10, tempo di arrivare da là, eh? Non si chiede come te ne sono fatte. Ai fagi perché lui stava morendo. Dopo ho provato la mia moto ho detto, no, no, me ne trovi uno, la compro anch'io, uguale. Andiamo, dov'è Spanti? Lele. Lele? Andiamo! Dai, andate in pineta, andate. Che dopo da lì vediamo dove cazzo andare. No, di lì. No, non fare... Fagli fare il tronco. Fagli fare il tronco. Che dobbiamo filmare. Vai, fai il tronco. Vai, va avanti... Marco! Di là. Avanti Leo. E arrivano. Non so che moriamo più. Vediamo. Vediamo. Aiaiaiai. Aiaiai. Vai qui. A passar di lei per forza. Vediamo. 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 Così che si fa, bravo! Troppo alto, a piano, sicaro! Anche qua eh, tocca ma appoggiati eh, no appoggiati, appoggiati poi la fai scendere, bravo! Appoggiati eh, appoggiati non saltare perché scivola, bravo! Guarda che scivola eh! C'è vicino! C'è, c'è, c'è c'è vicino! Ma va, era una finta! Cosa cazzo state andando di lì? Cosa cazzo state andando di lì? Cosa c'è vicino? Cosa cazzo state andando di lì? Cosa cazzo state andando di lì? Grazie a tutti.